Non ti ho spaccato il timo Best of Soul è un progetto discografico che serve per festeggiare dieci anni di questo mio percorso discografico Contiene 22 brani, tra i quali 7 inediti Questi 7 brani qui entreranno nel prossimo decennale Best of Soul 2 La Vendetta si chiamerà Diciamo che il mio percorso nasce dalla musica leggera italiana Sicuramente perché con mio padre, mio padre era un cantante di musica leggera Grazie a lui ho sicuramente frequentato e ascoltato quasi tutta la musica leggera italiana Però sempre grazie a lui e grazie ai musicisti con i quali collaborava A 11-12 anni mi arrivò per le mani una cassetta, una tape Una cassettina con dentro Michael McDonald, Al Jarreau, George Benson, Steely Dan E in un tratto c'era anche una canzone di Gianni Bella e Marcella Bella Quindi era una cassetta che, fra parentesi, ancora ho e che tengo gelosamente dopo oltre 30 anni Quella cassetta lì è stato il primo stimolo ad avvicinarmi a quella musica che poi faccio oggi Mi ricordo nel 2004 quando c'era This is what you are in classifica a Londra, alla BBC Ed era passata in heavy rotation, quindi martellavano di brutto E lì mi arrivò appunto questa classifica nella quale ero, non mi ricordo, al sedicesimo posto Ma all'inizio, ma pazzesco, cioè io sono entrati in una classifica inglese alla BBC One E poi settimana dopo settimana trovai questo brano, questo This is what you are con Mario Biondi Sempre più in alto fino ad arrivare al primo posto e al primo posto per diverse settimane Quindi lì già qualche domanda cominciavo a farmi Ma sta succedendo qualcosa forse E ogni volta mi allontano da loro è sempre doloroso E i sensi di colpa ogni tanto si fanno vivi, no? Perché dici, ah, avrei potuto stare un po' di più Però sai anche che tutto quello che fai lavorativamente, come per tutti, è un sacrificio Ma è un sacrificio che è dedicato ovviamente al benessere dei miei figli e della mia famiglia E di tutte le persone che fanno parte della mia famiglia Come no? Oh, fanpeggio, eh? Oh! 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 Oh